Giulia, che cosa ho fatto? Giù, dove sei? Ho bisogno di te. Giulia, eri tutto per me. Sei quello che volevo. Mi manchi, mi manchi, amore. Baggighetta, patatina. Sono belle le scarpe che abbiamo comprato. Tu sei bellissima. Sei la ragazza più bella e più importante dell'universo. Voglio morire. Voglio morire. Voglio morire. Questo è uno dei messaggi vocali trovati nel telefonino di Filippo Turetta, il ragazzo di 22 anni finito a processo per aver ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin, anch'essa 22enne. Il messaggio è datato 16 novembre 2023 ed è stato registrato cinque giorni dopo l'omicidio della ragazza. In quel momento Turetta era ancora latitante. Dopo aver ucciso Giulia a Vigonovo, in provincia di Venezia, aveva caricato il corpo in macchina e lo aveva abbandonato in un dirupo in provincia di Pordenone. Infine era fuggito verso la Germania, dove è stato arrestato tre giorni dopo. A colpire è il tono usato dal ragazzo nei suoi messaggi, come se non riuscisse a capacitarsi di ciò che aveva appena fatto. Turetta appariva sconvolto, quasi incredulo dell'accaduto. In qualche modo cercava di spiegare che il suo gesto era stato improvviso e non controllato e questo sembrava gettarlo nella disperazione. Le sue parole, però, stridono con quanto scoperto dagli inquirenti durante le indagini. Nei giorni precedenti all'omicidio, infatti, il ragazzo avrebbe pianificato nel dettaglio l'aggressione mortale. Aveva fatto ricerche approfondite su internet e si era preparato acquistando tutto il necessario per immobilizzare la vittima, ucciderla e nascondere il corpo. In macchina aveva portato coltelli, nastro adesivo, sacchi neri, cibo, vestiti, soldi contanti e una cartina stradale per fuggire senza consultare la mappa sul telefonino. Aveva addirittura stilato un elenco con tutte le azioni da compiere prima e durante l'omicidio. Questi elementi, secondo gli investigatori, proverebbero chiaramente l'aggravante della premeditazione. Si tratta di un aspetto molto importante. Se confermata, la premeditazione potrebbe portare Turetta all'ergastolo. Proprio su questo argomento verterà la fase più delicata del processo. L'imputato, come ha già confessato l'omicidio, ma ha tutto l'interesse a evitare la condanna più severa. È forse per questo motivo che nei messaggi, nei biglietti e nelle lettere scritte da Turetta, dopo aver ucciso Giulia, non si legge una sola parola riguardante la preparazione del delitto e il modo in cui è maturato. Il ragazzo faceva invece riferimento ai suoi ripetuti tentativi di suicidio, dettati dal tragico pensiero di aver commesso qualcosa che in realtà non avrebbe mai voluto fare. Lo aveva spiegato chiaramente anche in una lettera scritta ai genitori quando si trovava ancora in carcere in Germania. Sono codardo, ve lo giuro. Se solo avessi con me il pulsante suicidio istantaneo, non esiterei a premerlo. In questi giorni non volevo fuggire o scappare. Desideravo solamente uccidermi in qualche modo, ma sono un codardo e debole e purtroppo non ce l'ho fatta. Ho provato a soffocarmi con un sacchetto di plastica in testa, ma all'ultimo momento l'ho strappato. Volevo fare un frontale contro un muro o un albero, ma non sono riuscito nemmeno in questo. Ho guidato moltissimo, ma ogni volta che acceleravo poi frenavo e sterzavo. Il metodo migliore sarebbe stato a coltellarmi in qualche modo. Negli ultimi giorni sono stato la maggior parte del tempo seduto in macchina, puntandomi il coltello alla gola o al torace, aspettando di riuscire a sferrare i colpi. Insomma, il ragazzo parlava dei colpi che avrebbe voluto infliggere a se stesso e non delle 75 coltellate con cui ha martoriato la povera Giulia. Non una riga sul piano architettato prima di incontrare la vittima per l'ultima volta. Nella sua lettera Turetta sembrava preoccuparsi di tutt'altro, del suo futuro e di quello dei suoi genitori. Ecco un altro lungo stralcio. Ho un po' di paura a tornare in Italia. Non sapevo e non avrei mai immaginato che sarei diventato così famoso e questo mi fa paura. Ho generato tanto odio e tanta rabbia. Ho peggiorato il mondo in qualche modo. Mi merito tutto questo dopo quello che ho fatto. Non sono neanche riuscito a uccidermi. Vivrò l'intera vita in carcere. Non potrò laurearmi, conoscere persone, avere una famiglia. Soprattutto ho perso la persona più importante della mia vita, la persona a cui da due anni penso ininterrottamente ogni giorno, la persona più bella e speciale che potessi mai incontrare. Non so perché l'ho fatto. Non avrei mai pensato o voluto che succedesse. Io sono un cattivo. Lo giuro. Rinnegatemi. Come avete letto, anche in quest'ultima parte Turetta sosteneva di non aver mai pensato che potesse succedere una cosa del genere, ovvero che lui potesse uccidere Giulia. Ma come è possibile? Come mai allora aveva portato con sé le armi e gli strumenti per metterla a tacere? Ha scritto ancora il ragazzo ai genitori. Spero che nessuno vi giudichi negativamente. Che nessuno vi guardi male, rovini il lavoro, gli affetti o le amicizie. Non c'entrate assolutamente niente. Siete sempre stati degli ottimi genitori. Mi avete educato al meglio. Comprenderei e accetterei se d'ora in poi vorrete dimenticarmi e rinnegarmi come figlio. E probabilmente sarebbe la scelta migliore per la vostra vita. Io stesso non so se ho ancora il coraggio di farmi vedere da voi. Penso che sarebbe meglio un figlio morto che un figlio come me. Dopo aver scritto questa lettera, il ragazzo era stato estradato e trasferito in un carcere italiano. Nei giorni successivi i genitori erano andati a fargli visita nel penitenziario. Il colloquio che avevamo in parte pubblicato nei mesi scorsi era stato drammatico. Papà Nicola aveva detto al figlio Filippo, non sei uno che uccide la gente, non sei un mafioso, devi farti forza, non sei l'unico, ci sono stati parecchi altri. Parole che avevano suscitato indignazione e rabbia. Il processo nei confronti di Turetta è iniziato il 23 settembre scorso. Il ragazzo ha chiesto di essere ascoltato in aula. Parlerà il 25 e il 28 ottobre prossimo. Lo stesso giovane ha scelto di rinunciare all'udienza preliminare e di non presentare una lista di testimoni a suo favore. Per questo il processo sarà breve. La sentenza è attesa nei primi giorni di dicembre. Il suo avvocato Giovanni Caruso ha dichiarato, Filippo ha perfettamente capito il percorso. Ne ho parlato con il mio assistito, questa scelta è personale. Ha presentato lui la richiesta di essere interrogato e sa di dover rendere conto al giudice. Fare in fretta è anche nell'interesse dell'imputato. La rapidità è un ingrediente essenziale della giustizia. Poi sarà la corte a stabilire se Filippo Turetta merita l'ergastolo oppure se un ragazzo di 22 anni debba essere condannato a 30 anni. Per l'omicidio di Giulia, il papagino ha chiesto un risarcimento da un milione di euro. Il fratello Davide e la sorella Elena hanno chiesto 380.000 euro ciascuno, mentre la nonna Carla Gatto e lo zio Alessio Cecchettin. 150.000